E' aperta a Todi l'undicesima mostra nazionale mercato dell'antiquariato, un appuntamento quindi che si ripete da 11 anni, con successo che di anno in anno cresce, gli espositori quest'anno sono 60, vengono da tutta l'Italia, da Trieste alla Sicilia e bisogna dire che il numero dei visitatori anno per anno aumenta, si parla di 3, 4, 500 mila visitatori nel corso del mese in cui la mostra dura. Ma che significato ha oggi una mostra dell'antiquariato, cioè con un mercato così abbastanza vario, abbastanza diluito, abbastanza, dico così, poco leggibile. Questa di Todi comunque rappresenta una cosa piuttosto singolare, nel senso che avendo come oggetti di esposizione mobili, quadri, argenti, sculture, bronzi, ne vediamo qui ceramica, alcuni molto belli o altro, avendo questo tipo di cose, il mercato si orienta tra le persone che hanno desiderio e volontà di comprare un oggetto bello e che costituisca al tempo stesso un investimento. Ma tuttavia io credo che al di là di questo significato che le mostre dell'antiquariato possono avere oggi, oltre Todi ce ne sono molte altre in Italia, all'estero che rappresentano tappe fisse appunto di questo mercato in espansione, la funzione prima di queste mostre, proprio dal punto di vista sociale si può dire, sia quella della educazione del pubblico, nel senso che il pubblico viene a queste mostre, vede un oggetto bello, un oggetto di qualità, un oggetto vero, un mobile di stile, una ceramica che abbia una storia, un bronzo che costituisca in fondo in qualche modo proprio l'elemento tramandato di un'eleganza formale, stilistico o altro. Sotto questo profilo l'educazione del pubblico è estremamente importante perché oltre che a affinare culturalmente e a qualificare nel senso della scelta, dell'indicazione, dell'indagine su quello che è il campo dell'antiquariato, il mercato, offre anche lo spunto di creare nuovi collezionisti, nuovi acquirenti, che è naturalmente una delle ragioni prime di queste mostre, perché il giro di affare di queste mostre è notevolmente rilevante in certi casi, la clientela viene dall'estero, l'Italia rimane sempre un posto di San Patrizio per quanto riguarda il ritrovamento di oggetti che hanno un'origine precisa, per esempio qui a Todi si trovano moltissimi oggetti che hanno una nascita, si può dire limitrofa, o mobili di Siena, ceramiche maioliche umbre di Urbino, di Deruta, un piccolo trittico che è di un autore senese, anche questo è un oggetto molto bello, addirittura con lo stemma della casa a cui apparteneva. C'è ugualmente un altro piatto di Deruta, Filomena Bella, che è del 520, cioè sono cose che non vengono da lontano, sono cose che sono nate qui, che hanno una storia, che appartengono veramente come civiltà e come cultura al mondo in cui sono nati, in cui sono cresciuti e in cui ancora oggi si commerciano. Bene, questa mostra dell'antiquariato di Todi è quella che in qualche modo apre la stagione delle mostre antiquariali in Italia, dopo Todi ce ne saranno altre fino ad arrivare alla conclusione autunnale di settembre, che è un po' la capitale dell'antiquariato, alla quale tutti dal mondo intero intervengono come a uno degli appuntamenti più prestigiosi del mondo e del mercato antiquariale. Comunque in questa mostra di Todi, dicevamo, ci sono mobili, oggetti argenti molto belli, ne vediamo qui una serie particolarmente belle, tutti inglesi, con degli Sheffield che sono più preziosi dell'argento vero, gioielli anche molto importanti, ci sono dei tappeti, per esempio un titolo che si va esaurendo quasi, dico sul mercato europeo, proprio per la mancanza di produzione nei paesi d'origine e soprattutto per la rarefazione di quelli che sono gli elementi, così dico, sul mercato internazionale la cui sede è Londra. Questa mostra di Todi quindi, che apre la stagione antiquariale in Italia, è il primo degli appuntamenti nel settore del mercato antiquario, ma forse anche uno dei più significativi e dei più importanti e per l'importanza degli oggetti esposti e per la qualità del pubblico che vi viene appunto a vedere, perché Todi, caso strano, la città sarà bellissima, la città sarà affascinante, qualcosa succede per cui a Todi molto si vende e gli antiquari hanno un loro preciso vantaggio anche di ordine mercantile a partecipare a questa mostra che ha un risvolto di cultura e un risvolto di mercato molto importante.